Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Un'altra cosa è la voce. In nome di Padre, Figliolo, Spirito e Santo. Amen. Dimmi figliolo, dimmi. E veramente padre, mi vergogno un po'. Non ti preoccupare, parla. Vede padre, io non resisto, tutte le volte che vedo una gonna mi sale un fuoco in mezzo alle gambe, gli devo entrare dentro, non resisto e poi devo correre subito a casa e il resto se lo immagino. Eh, me lo immagino, me lo immagino. Allora vai a casa e di dieci padre nostro. Ma non lo so padre. E di dieci ave marie. E non so neanche questo padre. E di dieci atti di dolore. Padre non lo so. Ma che se fate le seghe bastardi. Allora va bene, ti assolvo, ti assolvo da tutti i peccati. Grazie padre. Senta, posso mettere un cero per la piccola fiammiferaia? Sa, mi fa tanta pena con quel padre che si ritrova. E se vuoi lasciare un'offerta va bene, volentieri. Sì padre. E mi raccomando figliolo, scordate le legonne. Certo padre. Senta, posso mettere un cero per la piccola fiammiferaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia